E plus novo a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, mi devo scusare soprattutto perché io ho cancellato il video di 5 giorni fa tra l'altro e non volevo cancellarlo, scusatemi veramente Come state, spero che voi stiate bene, io sinceramente sì, mi sono appena svegliata, scusatemi ma sono già così pimpante, lo so, lo so, lo so, lo so Comunque, scusate davvero perché io ho caricato un video sbagliato, poi lo rifarò, vi assicuro che finalmente ve lo posso rifare Prima di iniziare, volevo salutare una persona, un'altra persona che si chiama Lavinia Bonanno, ciao ciao, bacione E niente, oggi è domenica e sono quasi le 10 e 26 e scusatemi se ho iniziato il vlog adesso perché io sinceramente non voglio farvi vedere sempre lo stesso contenuto Ovvero, alzarmi la mattina, uno, lavarmi, due, tre, fare colazione, quattro eccetera eccetera E quindi non vi voglio annoiare assolutissimamente però, e quindi, eccomi qua Poi dopo, ovviamente, ma è una gioia, sempre riguarda le cose scolastiche Certo che devo riguardarmi alcune cose e io sono disperata, un po', un po', non troppo Non esageriamo Princess perché veramente, cioè Allora, in pratica, adesso sono qui con la luci Luci e con la lampada In pratica attorno Con la telecamera del telefono puntato, così E nulla Sono un po' troppo luccicosa, secondo voi E niente, ci vediamo dopo, 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 verso Non lo so, vediamo, vabbè dai, ci vediamo dopo Eccomi qua ragazzi, sono le 10 e... 10 e 40 Scusate, ma ogni tanto vado a vedere E niente Oggi sarà una giornata un po'... Come al solito, quindi niente Mi sa che non mi porterò Quindi andiamo a fare la nostra morning routine Metà morning routine Perché ho uno Non si deve... Non devo portare sempre lo stesso contenuto Perché poi vi annoio Scusate se sono al buio Ma... Luci, le luci, io voglio le luci Vabbè, prima ero in una lampada che praticamente stava... Stava lì puntata quasi nei miei occhi E... Un po' mi dava un po' fastidio Cioè, diciamo, il calore Tra virgolette Eccolo Uno cavalletto Eccolo, ecco Posso appoggiare da qualche parte il mio cellulare Allora In pratica dicevo che appunto mi dà molto... Addio Allora Mi dà molto fastidio il fatto che Ci sia la luce Cioè, dipende un po' Se è molto... Come dire Se la luce Emette calore Allora C'è un po' mi dà fastidio Se C'è quella della lampada Ma dipende Cioè, va a periodi O ci sono dei periodi che non mi dà molto fastidio O se no Ci sono anche dei periodi che Va Che Mi dà molto fastidio Niente Un secondo che mi devo Lavare I denti E ci vediamo dopo Un secondo Fra tre Due Uno Eccomi ragazzi E ragazzi Finalmente Denti polliti Perché io non vedevo l'ora di lavarmeli Non ce la posso fare senza Però raga Aiutatemi Perché dopo mangerò Di nuovo Un dolce Anzi Non di nuovo Ma mangerò Il dolce Cavoli Mi stavo allontanando Perché poi Non c'è più la connessione qua In cucina Quindi ritorno di là Ovvero in camera Sono le 11 Credo E niente Questa è È più o meno La giornata weekend Ah è vero Avrò un sacco di cose da fare Ma Mi ristudio per lunedì Cioè per mercoledì Scudatemi Allora Comunque Io adoro Passare Il tempo vloggando Solo che In questo periodo Veramente Io vloggo pochissimo Ehm Mi dispiace tantissimo Veramente Di non aver caricato più Un Nemmeno un vlog E Adoro Adoro fare ancora Adoro ancora i vlog Però il problema È che La scuola mi sta Completamente Torturando Però Cioè Che devo fare E questa è la vita È che Quando veramente Ti piace una cosa Ovvero studiare Non Come dire Non Non devi rinunciare subito Diciamo E Allora Io devo 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 Ai miei appunti Oddio raga Guardate Un sacco Un malloppo di fogli Sì Le ho già Stampate Le ho stampate In braille Perché Sono Un sacco Ce ne sono Un sacco Present Continues Forma affermativa Forma affermativa Vabbè Forma negativa Perché in pratica Vabbè Non vi parlo Di cose Perché Poi vi Annoio Nulla Lo sento in camera Perché Cioè Sinceramente Non lo so Come al solito Il solito sogno Perché Dovete sapere Una cosa A volte Sogno la stessa cosa Ma Vi starete chiedendo Come faccio a sognare Io sento magari Cioè non so Per esempio Io sento le voci Delle persone E Sento quando mi toccano Cioè Hai fatti presente Quella sensazione Di Aiuto Qualcuno Mi sta toccando Ecco Provo la stessa cosa Ma il problema È che Nel mio sogno O a volte Non c'è nessuno Che mi soccomi Mi Aiuta Oppure Cioè C'è qualcuno Ma a volte Non riesco a farmi aiutare Strano Vero E niente Ci vediamo Dopo Dopo Sono le 11 E finalmente Sono qui Io voglio andare A studiare Cioè In realtà Non Non Molto Cioè Non c'ho voglia Un po' Cioè Non è vero Non è vero Devo far vedere A un 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 mio amico Come Cioè Come il mio computer Perché Vabbè Vabbè Non mi ricordo mai Cosa voglio dire Infatti Oggi stiamo studiando La memoria Appunto Di scienze Umane Ecco Finalmente Siamo qui Scusate Dovevo far vedere A un mio amico Come il computer Su whatsapp Un secondo Lo andiamo a preparare Perché veramente In realtà In realtà Non avrei voluto Fare Una cosa Vabbè Ehm Appunto Poi dopo Si conclude Che Vado A Fare Qualcosa Col computer Ragazzi Andiamo Non tornerò Non tornerò Che dolce Sensazione Nasce Raga no Mi tocca Mettere giù Tutto Perché mio padre Mette sempre Mio Allora Se mi aiuta Non dovrebbe Ecco Ecco Cade tutto Adesso Vabbè Un secondo Raga Madonna Che non Ce la Farò Mai Sto appendendo Lo zaino Di north face Colore Blu Sulla Settia E Quante Non ce Non ce La farò Ma E Aiuto Ok Vai 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 Giù Ecco Finalmente Ci sono Un secondo E niente Finalmente Riesco a prepararmi Il computer E nulla Spero che questo Vi sia piaciuto Scusate Se è È stato corto Ma devo fare Alcune cose E Niente Ci vediamo Nel prossimo vlog Se volete essere salutati Vi ricordo Che potete farlo Cliccando E attivando La campanellina Per essere Sempre aggiornata Nel prossimo video Io come sempre Ando Grazie a tutti Al prossimo video Ciao Corro